Salve a tutti, in questo video parliamo di relatività, non della relatività di Einstein, bensì della relatività di Galileo. Ci occupiamo cioè di moti relativi. Diciamo intanto che il moto di un corpo è sempre relativo a un sistema di riferimento. Parliamo delle trasformazioni di Galileo e vediamo subito un esempio. Un osservatore fermo in stazione vede passare un treno che viaggia a velocità costante v sul quale è presente un passeggero fermo. Identifichiamo subito un sistema di riferimento, quello bianco, dell'osservatore che è fermo e un sistema di riferimento rosso che è quello del treno che qui ho rappresentato con questo rettangolo arancione che sta viaggiando a una certa velocità v sul quale treno è presente questo passeggero. Nell'istante t uguale a 0 supponiamo che questo sistema di riferimento rosso sia sovrapposto a quello bianco. Io l'ho disegnato un po' separato perché si potessero vedere. I sistemi di riferimento bianco e rosso sono sistemi di riferimento inerziali. Ho trattato i sistemi di riferimento inerziali nel video sui principi della dinamica. Allora ho indicato con S' la posizione del passeggero sul treno. Questa posizione nel sistema di riferimento rosso è costante nel senso che dal momento che il passeggero è fermo la sua posizione all'interno del treno non cambierà. Perciò rispetto al treno il passeggero supponiamo sia seduto e quindi per lui si sta muovendo il treno ma lui è fermo. Allora la sua posizione S' relativamente al sistema di riferimento rosso è costante ma così non è rispetto all'osservatore. Infatti se il treno si sta muovendo si starà muovendo anche il passeggero al suo interno. Perciò se l'osservatore è fermo in stazione per lui si muoverà il treno ma si muoverà anche il passeggero. Allora consideriamo questo come istante t uguale a zero. Ora andiamo a vedere cosa succede ad un certo istante di tempo t. Il treno avrà percorso un certo spazio. La posizione del passeggero non è cambiata rispetto al treno ma è cambiata rispetto all'osservatore. Allora indichiamo S' l'abbiamo già visto in precedenza e la distanza del passeggero diciamo dalla coda del treno quindi la sua posizione rispetto al sistema di riferimento rosso che non cambia. S0 è quanto spazio ha percorso il treno quindi il sistema di riferimento rosso dal sistema di riferimento bianco che è quello dell'osservatore fermo. S ovviamente come si vede da qui rappresenta la posizione in cui si trova il passeggero rispetto al sistema di riferimento bianco. Allora noi possiamo scrivere quelle che sono le trasformazioni di Galileo per la posizione ovvero S è uguale a S' più S0. Da qui è facile ricavare quanto vale S' ovvero S meno S0 però vi faccio notare che la distanza S0 avendo la velocità del treno la possiamo sostituire con V per T. Allora noi possiamo scrivere che S' è uguale a S meno V per T. In questo caso ci stiamo occupando solo di una dimensione cioè solo del moto lungo l'asse orizzontale perché in verticale non stiamo considerando nessun moto. Ovviamente se il moto fosse nel piano noi dobbiamo considerare le trasformazioni della posizione sia per quanto riguarda un asse X sia per quanto riguarda un asse Y. Ecco che possiamo scrivere le trasformazioni di Galileo per la posizione nel caso generale S' uguale a S' uguale a S' meno Vx per T dove Vx rappresenta la componente X della velocità del secondo sistema di riferimento, quello in moto, nel nostro esempio era il treno, in modo analogo scriviamo la posizione sull'asse Y. Vi invito a iscrivervi al canale e ad attivare le notifiche. Un saluto e alla prossima. Ciao!